Sì T'ho preso Vaffanculo Ma poi guarda come mi ha killato, dai Mi schiarci Che è possibile, è una cosa del genere Che è possibile Oh, salva Eh, Match? Eh, dimmi Senti, hai presente quella ragazza che ti dicevo? Si Ecco Si è presente alla parte dei in per sé che le ha spondata la parte Mi ha anche avuto un bacio Sì, ma non vuol dire niente Ah, vabbè, la vita a questo momento si è appena i spon- Sponeeeeee Madonna mì Sì, ma comunque non vuol dire niente Oh, fortunato se Perché mo... Sachs Match, ti ricordo insomma mi sta trombando e allora ho capito però questa qua sta andando un po troppo veloce per me i gusti a o match e e e un mese incinta e vabbè sono un cazzatore cos'è il problema? ma salvatore per un bene per l'etico ok dai sono con me cazzo cazzo o